Jaelle de Dona, il marito ancora più arrabbiato, centra Antonino Spinalbese il matrimonio della chiacchierata Gieffina a rischio? Il marito è scomparso, nei giorni scorsi, Sofia Jaelle de Dona non ha nascosto che Antonino Spinalbese non è indifferente ai suoi occhi. Quest'ultimo però ha preso e distanze dalla stilista, dopo che la stessa l'ha rimproverato per il fatto di non aver precisato che non è soltanto lei che si avvicina a lui. Samara Tramontana in una nuova puntata di Casa People ha fatto sapere che il marito della Gieffina si sarebbe innervosito ulteriormente, a causa della sintonia con l'air stylist, lui è praticamente scomparso da quando si è avvicinata molto a lui. La stilista non ha ricevuto lo striscione aereo dall'imprenditore americano, lo scoop sin da quando ha messo piede nella casa del grande fratello VIP7 la concorrente Sofia Jaelle de Dona.